Sul regionalismo differenziato non c'è un passo indietro ma c'è un modo diverso di ragionare? Sì, è necessario ragionarci bene, è necessario ripartire perché quello che è accaduto in questi dieci anni è che ci sono stati tagli per oltre 37 miliardi di euro. È chiaro che dopo una stagione di tagli così lunga i servizi sanitari regionali si sono purtroppo resi disomogenei. In alcune regioni le cose vanno molto bene ma in alcune altre, soprattutto nel centro-sud, le cose non vanno bene. Basta con i tagli, nuova energia al senso del centro nazionale, 2 miliardi in più per quest'anno. Dopodiché possiamo ragionare su quali eccellenze copiare e migliorare e rendere quanto più omogeneo e uguale il servizio. Ha anche detto che questo modo di commissariare le regioni va ripensato? A mio avviso i commissariamenti, così come sono stati strutturati in questi dieci anni, non hanno funzionato benissimo. Quindi probabilmente è molto meglio commissariare ad hoc l'area, l'ospedale, il servizio che non funziona piuttosto che un'intera regione. Sulla carenza dei medici, la soluzione ha detto non è aprire il numero chiuso e fare più medici ma dare più borse. Allora la carenza dei medici che noi osserviamo oggi è una somma di una progressiva carenza e perdita di eccellenze del servizio nazionale. A mio avviso non è necessario togliere il numero chiuso a medicina, non è quella la soluzione. Aumentare i posti di medicina sì, ma non togliere il numero chiuso. È necessario invece migliorare quello che è l'imputo formativo, cioè dopo la laurea dare la possibilità a coloro che si sono laureati di entrare nella scuola di specialità aumentando il numero delle borse. Così come abbiamo già fatto lo scorso anno aumentandole di 1800, sarà necessario aumentarle in maniera progressiva, in maniera puntuale secondo le esigenze del territorio nei prossimi anni, cioè creare i medici specialisti. Questa è una possibilità, una necessità. Altre possibilità sono ad esempio aumentare anche il numero di ore di coloro che hanno un contratto su mai. Oggi la media nazionale è di 23 ore, è chiaro che loro sono già in servizio al servizio nazionale. Aumentare l'orolo significa far fronte a un'emergenza, così come a mio avviso è utile anche incrementare l'età pensionabile. Almeno ci sono delle eccellenze nelle zone dove c'è carenza, persone che attualmente sono in prossimità della pensione e stendere il loro servizio, purché vi sia un regambio apicale, potrebbe essere un'ulteriore alternativa. Cosa manca per aumentare le ore ai medici specialisti? Mancano risorse, o meglio una programmazione di risorse destinata a questa finalità. Però ripeto, un servizio sanitario nazionale dove ci sono più tagli e nuovo ossigeno, quindi nuovi soldi, come accade da quest'anno, consentirà nei prossimi mesi, nei prossimi anni, di sanare molte situazioni che sono arrivate al limite. Più soldi per le delizie sanitarie che significa? Significa avere miliardi in più per edilizia sanitaria e innovazione tecnologica. Significa che quelle regioni che lo richiedono, che hanno bisogno di migliorare, sistemare, costruire un nuovo ospedale potranno farlo, così come quegli ospedali che hanno bisogno di nuova tecnologia potranno chiederlo. Grazie all'accordo fra governo e regioni saranno disponibili due miliardi in più per edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico, che sono tantissime risorse per alzare gli standard dei nostri ospedali.